Giovanni Poletti, rappresentante di Salviamo il Paesaggio, stamani si è evocato in un intervento precedente l'importanza anche di censire, di capire quella che è la situazione del patrimonio residenziale non solo a disposizione, non utilizzato. E' stata questa una delle campagne fondamentali, importanti, promossi da questa rete di oltre un migliaio di soggetti presenti a livello nazionale. Come leggete le dinamiche che sono state presentate anche questa mattina a partire dai diversi rapporti? Buongiorno a tutti. Ma per quanto mi riguarda, negli interventi che si sono sentiti questa mattina è estremamente difficile, se non impossibile, non essere d'accordo sulle idee proposte. Quello che secondo me può essere un po' la chiave di volta per il successo di campagne di sensibilizzazione non solo e di difesa attiva, in questo caso di difesa del suolo, è un coinvolgimento diverso, è un coinvolgimento allargato di categorie, di persone che nulla abbiano a che fare con il suolo. Se io in questo momento affermassi che il suolo o la difesa del suolo è una grande fesseria, sostanzialmente avrei una levata di scudi dalla parte di tutti i presenti, giustamente, sia chiaro. Quello che secondo me dovrebbe avere un'efficacia assolutamente maggiore e che dovrebbe essere stata perseguita in questa, come in altre cause, mi viene in mente la difesa del paesaggio, piuttosto che già il verde delle città, il verde urbano, è già qualcosa che forse ha già una sensibilizzazione maggiore, dovrebbero essere portate coinvolte categorie che nulla abbiano a che fare con questo, cioè persone che nulla conoscano in merito al suolo. Il problema, questa è una lettura molto critica, ma anche molto di parte, il problema di giornate come queste, al di là della bontà dei contenuti espressi, che di fatto sono pressoché ineccepibili, nel senso che, ripeto, è veramente difficile non essere d'accordo con quanto detto, se non per alcune eccezioni di cui dopo magari posso dire meglio, è il fatto che soffrano, a mio vedere, di una eccessiva verticalità. Questi sono dei tavoli altamente qualificati, altamente rappresentati, ma che pure nella loro estensione hanno una sorta di verticalità, sono esperti del settore che si muovono secondo un piano bidimensionale che va dall'alto verso il basso. La riuscita è probabilmente riuscire a fare cultura, riuscire a muovere coscienze, riuscire a muovere interessi, anche economici, in senso trasversale. Diversamente avremo un fenomeno che avrà ancora un'onda molto lunga, che abbiamo sentito questa mattina, che il consumo del suolo è rallentato, ma non si è fermato. E questo rallentamento può avere ancora degli effetti estremamente lunghi, dei tempi molto lunghi, che probabilmente non ci possiamo più permettere. Per accelerare, io non saprei dire quali possano essere le soluzioni. L'unica cosa che posso dire è che occorre non tanto una massificazione, ma proprio una sorta di allargamento, un riuscire ad avere diversi livelli di comunicazione, diversi interlocutori, che vadano proprio a essere presi letteralmente. Uno dovrebbe andarsi a prendere un po' i pomodori in faccia, non so come spiegare, attraverso realtà che magari non vogliono sentire queste cose, ma che, ripeto, probabilmente sono la maggioranza, perché oggi come oggi, se noi andiamo a parlare di consumo del suolo, al di fuori di quest'aula, è veramente una mosca bianca. Cioè, finché siamo noi, tra conoscitori più o meno fini, più o meno addentro alla materia, sembra il centro del mondo, ma al di fuori di questo non c'è nulla. Io, per il mio lavoro, mi trovo spesso ad avere a che fare con realtà in cui parlo di paesaggio. Io sono un agronomo, ma le persone, la signora Rossi, la signora Maria, paesaggio, oggi come oggi, non illudiamoci. Se va bene, pensa ancora a un panorama, pensa a una veduta, non stiamo parlando di un qualcosa, di un bene che deve essere difeso. Il consumo del suolo è un qualcosa che non viene minimamente percepito fuori. E' probabilmente questa difficoltà di riuscire ad avere dei risultati, forse non tanto concreti, perché, per carità, le proposte di legge e quant'altro sono sicuramente dei risultati tangibili, ma un'accelerazione, perché probabilmente il tempo lavora contro di noi. Dicevo prima sul fatto di alcune, secondo me, nel tecnico questa mattina sentivo l'affermazione del fatto che ci siano delle, del rinverdimento delle aree urbane sia già aumentato rispetto agli anni passati. Ecco, sì, è vero, lo confermo, però sono ad dati che vengono, e anche questa mattina sentivo molto calcare la mano sull'aspetto quantitativo, più che qualitativo. Ad esempio nel verde urbano, sì, il rinverdimento può essere aumentato, ma nulla ci dice sulla qualità di queste aree, sulla fruibilità di queste aree, su quanto il fruitore possa essere invogliato a utilizzare queste aree. Ecco, probabilmente c'è una sorta di ricalibrazione che debba essere fatta, sia a livello di interlocutori. Avevo, come dire, condivido pienamente il fatto che i soggetti con cui si debbano, come dire, parlare, discutere, confrontarsi, siano appunto coloro che in campo edilizio operano in città e non possa funzionare quella che è stata fino ad ora o fino a poco tempo fa una sorta di negazione o di coercizione a non fare, ma debbano essere ripensate, una sorta di cambio di marcia, quelle che siano le necessità di rivedere, ripensare, un diverso modo di costruire, dove il costruito, ad esempio, può essere che debba avere una scadenza nel tempo e anziché una manutenzione forte si possa decidere che a un certo punto gli edifici debbano avere una durata X di anni, 20-30 anni, dopodiché debbano essere rifatti e quindi non occupare il suolo, ma riutilizzare quello che c'è.